Dina Carinci, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, allora soddisfatta dell'approvazione dei due emendamenti presentati a questo documento che si oppone alla variante voluta dall'ANAS? Sì, ma noi non sappiamo quale sia la variante voluta dall'ANAS, questo l'ho detto anche in Consiglio Comunale. Comunque sì, quando c'è condivisione di un provvedimento da parte di tutti i consiglieri comunali, sì, mi dà soddisfazione e credo che siano soddisfatti anche i colleghi. Sì, due emendamenti, io tenevo in particolare al primo dei due emendamenti perché il Consiglio Comunale ha messo nero su bianco quella che era l'intenzione sì dei consiglieri ma soprattutto dei cittadini che rappresentiamo e cioè evitare assolutamente che ci siano degli interventi sul costone orientale di Evasto. Ecco, al di là di questo però c'è il rischio che questi fondi, si è sempre detto, non solo che non bastino per una variante più ampia ma che poi non vengano sfruttati, quindi quest'opera pubblica non venga mai realizzata. C'è il rischio di perderli questi fondi, come dice qualcuno? Sì, c'è il rischio di perderli e per questo che ritengo, come ho già detto in passato in un comunicato stampa, è necessario che l'ANAS si dia da fare e che questo progetto venga venga fuori, venga a luce. Sicuramente si possono perdere, però ecco abbiamo anche l'opportunità di poter attingere dai fondi del PNRR e quindi dobbiamo approfittare di questo particolare momento storico.